Buongiorno, ben trovati qui alla Piazza dei Fiori per questo incontro, ben trovati anche a coloro che si sono collegati. Oggi parleremo di Fab City, un nuovo modello di produzione urbana e lo faremo in compagnia del nostro ospite Annibale Delia, che è a capo della direzione di progetto Economia Urbana, Moda e Design del Comune di Milano. Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Allora, come sappiamo questa decima edizione del Salone vuole riflettere sui risultati e sulle prospettive che le varie organizzazioni contribuiscono a dare per rendere il nostro futuro più sostenibile. E allora viene naturale chiedersi che cosa può fare una città per diventare più sostenibile. Ribuongiorno a tutti, il rapporto tra città e sostenibilità è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Sapete che le città in prospettiva, già adesso ma in prospettiva sempre di più, sono considerate da una parte i luoghi dove si concentra la maggior parte della popolazione del pianeta Terra e nello stesso tempo anche i principali responsabili di emissione di gas serra. Di conseguenza il rapporto tra città e sostenibilità è molto forte e non è possibile immaginare delle strategie che riguardano la sostenibilità senza guardare ai temi urbani. Però qui proviamo a fare un ragionamento un po' eterodosso, un po' eretico. Nel senso che quando parliamo del rapporto tra città e sostenibilità tendenzialmente il pensiero va subito al verde urbano naturalmente, al tema della mobilità urbana sostenibile, al tema del consumo di suolo che sono ovviamente i pilastri di una strategia per fare di una città sostenibile e su cui Milano ovviamente è pienamente ingaggiata e impegnata. Però per arrivare subito al dunque, il progetto di cui parliamo parte da un assunto piuttosto originale e che è il seguente. Se noi vogliamo davvero rendere le città sostenibili dobbiamo necessariamente porci il problema di dove e di come si fabbricano le cose. Lo dico meglio, noi siamo abituati ormai a immaginare le città come i luoghi del terziario, il luogo dei servizi. Sappiamo che a partire dalla fine degli anni 70 le città italiane, europee e anche del mondo sono state interessate da un crescente processo di deindustrializzazione. quelle grandi impianti che facevano molta puzza si sono progressivamente allontanati dai centri urbani sono andati prima in ampie zone industriali e poi da qualche parte sul pianeta Terra e in qualche modo oggi la città funziona secondo un classico modello lineare cioè importa prodotti che sono stati fabbricati chissà dove e produce ed esporta rifiuti che vengono mandati chissà dove. Al cuore di questo progetto c'è una riflessione che dice proviamo all'interno di una serie di trend anche internazionali a ragionare di come nuove tecnologie, nuove sensibilità ed emergenza climatica ci possono portare a ragionare in termini di economia circolare sul riuso e la valorizzazione di quell'enorme giacimento di scarti rifiuti che le città producono. Allora hai parlato di trend internazionali quindi prima di adentrarci proprio nel cuore del progetto descrivici un po' il contesto e come poi si arriva al progetto Fab City. Sì perché è una storia, grazie della domanda perché è una storia che viene ormai da qualche anno di esperienza a partire dal 2017 che se vi ricordate è stato l'anno in cui è un po' emerso l'AIP del 4.0 il governo ha realizzato un piano nazionale industria 4.0 si è cominciati a ragionare di tecnologie di fabbricazione digitale Bene, tra il 2016 e il 2017 il Comune di Milano osservando una serie di esperienze internazionali ha cominciato a dire proviamo a ragionare di come le nuove tecnologie possono riportare i processi manifatturieri dentro la cerchia urbana Sembra un'idea assai originale supportata da dei dati estremamente interessanti su fenomeni del cosiddetto reshoring industriale cioè quel processo che porta fabbriche o imprese che si occupano di produzione manifatturiera a guardare con interesse al riavvicinamento dei processi produttivi ai luoghi di consumo e una serie di città, cito forse le tre capofila New York City con il noto progetto sul recupero dei nevi yard nei cantieri navali di Brooklyn Barcellona con il quartiere Poblenau che in qualche modo è diventata una specie di nuova zona industriale tra design e creatività e Parigi anche all'interno delle sue riflessioni sulla città a 15 minuti hanno cominciato a ragionare di come poter riavvicinare produzione, manifatturire e consumo e in qualche modo generare da una parte salvaguardia dell'ambiente riducendo gli spostamenti delle merci ma dall'altra parte anche garantendo la creazione di posti di lavoro di buona qualità in particolare per la classe media su questo diciamolo questo tema di uno sviluppo economico capace di generare opportunità di lavoro nel 2016-17 quando abbiamo cominciato sembrava un po' una roba strana adesso anno domini 2022 se parliamo di sviluppo economico inclusivo per la classe media credo che in parecchi sappiano di che cosa stiamo parlando No, infatti tra l'altro quando parlavi chi conosce Milano o perché l'ha vissuta da qualche anno o perché comunque conosce un po' la sua storia quando sente parlare di produzione manifatturiera in Milano gli vengono in mente alcuni quartieri alcune fabbriche ecco non stiamo parlando di questo stiamo parlando di innovazione sociale ed è con questo spirito che ti chiedo di toglierci appunto adesso la curiosità che sicuramente ci è nata ma allora che cosa vuol dire andare a produrre nella città e come voi con il vostro progetto intendete aprire la strada verso questa frontiera Allora per rispondere alla tua domanda ti racconto tre piste di lavoro che in qualche modo stanno convergendo come talvolta succede nei processi esplorativi di innovazione lo diceva Steve Jobs ogni tanto dei percorsi che sembrano assolutamente indipendenti l'uno dall'altro improvvisamente trovano sintesi convergono primo progetto è quello di cui stavamo parlando il lavoro sulla manifattura urbana che si è tradotto in una lunga operazione di scouting di ricerca e di interlocuzione con chi in città oggi produce non so se lo sapete chi produce oggi in città ci sono delle esperienze le più varie ci sono alcune residuali esperienze diciamo così sopravvissute all'epoca della deindustrializzazione che in qualche modo non sanno se sono come dire residui di un passato che non c'è più o avanguardia di qualcosa che sta per arrivare molto interessante è il link tra produzione partecipazione diretta degli utenti finali e saper fare competenze artigianali cioè Milano non è soltanto una città industriale Milano è anche una città con un background di saper fare italiano straordinariamente evoluto allora abbiamo scoperto un tessuto ricchissimo di artigiani di altissimo livello te ne dico uno diciamo una non so se sapete che i reali in occasione delle celebrazioni importanti diciamo da ultimo il funerale della regina Elisabetta ma prima matrimoni di altissimo livello vengono a farsi fare i cappelli a Milano oppure che esiste a Milano una tradizione di pelletteria di altissimo livello per cui chi lavora su pelli pregiate a Milano l'epicentro del trasferimento di competenze oppure tutto il settore del gioiello che ricordiamo ha un impatto anche sull'export italiano estremamente interessante a Milano uno dei luoghi di maggiore elaborazione e anche di mix di nuove tecnologie non solo ci sono le start up che lavorano sulle innovazioni tecnologiche del 4.0 ci sono i designer che hanno bisogno di prototipare e quindi lavorano su tecnologie di fabbricazione e prototipazione rapida ci sono ovviamente le piccole e medie imprese della città estesa alcune sappiamo non hanno retto la concorrenza altre cito Berto Salotti per esempio che è una straordinaria esperienza di salottificio made in Italy radicato nella tradizione ma orientato al digitale che rappresenta uno delle case history che Google porta nel mondo come uso consapevole della tecnologia da una parte c'è tutto questo filone di ritorno di interesse sia da un punto di vista imprenditoriale ma anche nella sensibilità delle persone che non vedono l'ora di smettere di occuparsi solo di digitare qualcosa davanti a uno schermo hanno un'enorme voglia di rimettere le mani sulle cose e questo è un filone di lavoro che prosegue e continua poi c'è un altro che invece c'è qualche modo un po' scoppiato in mano noi come direzione economia e lavoro da anni ci occupiamo sistematicamente di erogare grant per la nascita di start up o nuovi progetti diciamo di innovazione sociale nei quartieri cosa abbiamo notato che la stragrande maggioranza delle risposte alle nostre call da qualche anno a questa parte erano fortemente centrate sul tema diciamo hands on manufatturino trasformativo in qualche modo ma con una grossa attenzione ai temi dell'economia circolare come fosse una naturale tendenza che le persone più giovani hanno nel guardarsi intorno e dire ma io cosa posso fare dei fondi di caffè di tutti i bar del mio quartiere cosa se ne può fare di tutto l'allestimento di eventi piccoli medi e grandi che si svolgono a Milano e perché tutto deve poi finire in discarica allora abbiamo visto emergere una particolare sensibilità su questo da una parte la manifattura dall'altra parte la circolarità hai capito dove vogliamo andare a parare infatti ti interrompo per chiederti questo ho detto quindi non è vero che per non inquinare scusa la banalità non bisogna fare nulla bisogna forse stare attenti a come lo si fa guarda il tema è questo per non inquinare diciamo mi verrebbe da dire non basta riciclare Milano è una città che rappresenta un'eccellenza nel campo della gestione della raccolta differenziata in Italia siamo lontani diciamo dagli standard top a livello mondiale ma è una città che si difende molto bene insomma AMSA fa un ottimo lavoro ecco diciamolo e anche i cittadini di Milano sono particolarmente collaborativi non solo nel campo della circolarità Milano secondo una ricerca dell'università Bicocca uscita appena prima del lockdown quindi alla fine del 2019 risultava come la città più circolare d'Italia siamo andati a vedere dentro queste analisi fatte su una serie di indicatori estremamente come dire completi che andavano da il tasso di riuso delle acque oppure l'utilizzo di mezzi in sharing eccetera abbiamo trovato diciamo degli elementi di molto valore pensiamo per esempio alla food policy di Milano che sapete è un'eccellenza internazionale però abbiamo trovato poca economia cioè è come se tutto il tema della trasformazione della transizione ambientale riuscisse molto bene a intercettare i temi diciamo una delle R della circolarità riduce il consumo ma non si riesce ancora a innescare dei cicli economici urbani per fare in modo che il giacimento di materie prime e seconde possa diventare l'input di nuove opportunità di imprese di lavoro abbiamo fatto un link col tema della manifattura ed eccoci qua e quindi tutto questo con il piano aria-clima come si si lega? Allora tutto questo ha avuto due piste di implementazione una che da un annetto noi stiamo portando avanti all'interno di un progetto europeo che poi richiamo perché il titolo di questo incontro evoca proprio questi Fab City Hub e magari spieghiamo cosa sono l'altro importante pista di lavoro un po' più di sistema è il piano aria-clima che è il piano dell'amministrazione comunale da cui elaborazione è partita nel 2019 e ora entra nel vivo attraverso un lungo percorso di consultazione degli stakeholder e che ha l'ambizioso obiettivo di abbattere del 45% le emissioni di CO2 entro il 2045 e trasformare la città in far diventare Milano carbon neutral nel 2050 ora dentro questa grande scatola guarda un po' c'è un'azione che invita la direzione che presiedo a elaborare un piano d'azione di economia circolare ecco ci tenevo molto che arrivassimo a parlare nello specifico del progetto dopo questo excursus perché nonostante anzi proprio perché oserei dire ci sono questi ambiziosissimi obiettivi che il piano aria-clima ma in generale gli obiettivi di sostenibilità pongono si parla specificamente con dei progetti con delle ricerche orientate a portare riportare una produzione innovativa adatta agli spazi urbani con la possibilità anche eventualmente di riqualificarne alcuni che sono andati in disuso o meritano comunque un ripensamento ecco tutto questo discorso che abbiamo fatto che parte da una rete di città straniere parte da un movimento che di condivisione di confronto perlomeno europeo ma in realtà è mondiale parte da una città che sta lavorando sul tema ha anche questo aspetto di Fab City Hub che adesso a questo punto ti chiedo di dettagliare con due fasi che cosa avete fatto finora come si è svolto e poi andiamo a vedere il proseguimento ok io comincerei con spiegare che cosa si intende con Fab City il documento per i più curiosi in ascolto si chiama Fab City White Paper facilmente reperibile online ed è una sorta di diciamo documento di visione che ecco la prima volta che l'ho letto ho detto beh la sparano veramente grossa cioè l'idea di porsi come obiettivo arrivare all'autosufficienza produttiva della città entro il 2054 diciamo ne ho sentite tante di utopie questa quantomeno interessante ecco così è il primo pensiero che ho fatto in realtà guardandoci dentro e anche al di là diciamo di un orizzonte di visione il ragionamento è ineccepibile e dice torniamo a quello che dicevamo all'inizio le città sono modelli lineari che importano prodotti ed esportano rifiuti il cosiddetto diciamo modello PITO prodotti in trash out ok non so se avete notato che dentro questo genere di modello oltre alla sua evidente insostenibilità ci sono anche degli altri aspetti che si sono un po' messi di traverso come quella famosa nave nel canale di Suez vi ricordate ma facciamo un altro esempio c'è stato un momento in cui improvvisamente tipo marzo del 2020 avevamo molta bisogno di mascherine vi ricorderete e vi ricorderete anche come la Lombardia che è la seconda regione manifatturiera più importante d'Europa non era in grado di produrle perché dentro una sorta di divisione dei compiti delle catene globali del valore le mascherine si fanno in Cina detta male ok ora partendo da da una parte l'insostenibilità di un modello che porta i prodotti gli atomi a fare un sacco di strada nel pianeta generando un'impronta ecologica mostruosa e notando anche che anche per questioni banalmente geopolitiche o anche organizzative non possiamo più pensare che tutto il nostro equilibrio di vita sia affidato esclusivamente alle sorti di un container questo documento che è la base della visione su cui poi noi stiamo lavorando propone di passare da un modello PTO prodotto in trash out un modello di IDEO data in data out cioè l'idea che le nuove tecnologie di fabbricazione digitali siano in condizioni di produrre localmente cose progettate anche altrove e che in prospettiva il concetto di produzione la produzione possiamo anche parlare di upcycling possiamo anche parlare di trasformazione di prodotti in realtà è perfettamente compatibile con la vita di una città magari non del centro di una città ma di una città diciamo a livello allargato garantendo un'impronta ecologica straordinariamente minore arrivando proprio al succo e al dunque questo progetto finanziato dall'Unione Europea che ci vede a fianco di Barcellona Parigi Copenaghen e Amsterdam da Meginevra come città principali siamo anche orgogliosi di essere la città che guida questo processo sta dicendo come facciamo ad abilitare forme di trasformazione di come si dice in gergo materia prima seconda cioè rifiuti e scarti per rispondere e soddisfare ai bisogni locali di produzione proviamo a dirla con una metafora avete presente il chilometro zero cos'è la riflessione sul chilometro zero è una riflessione sulla riduzione dell'impronta generata dalla trasformazione dei tulipani che vengono dal Cile o della cicoriella o della frutta della verdura che noi consumiamo è possibile immaginare così come abbiamo scoperto la valorizzazione di risorse vicine riguardo al food ragionare di chilometro zero o di riduzione delle distanze per quanto riguarda le altre fa bisogno di produzione della vita di una città cioè è possibile che la città produca cose di cui ha bisogno usando le cose che butta tornando al cibo Milano e la food policy come affronta il tema lo fa con dei centri di raccolta di cosiddetti food hub lo scopo del progetto è studiare modelli di business e condizioni di fattibilità perché è un progetto di ricerca quindi lo scopo non è mettere a terra ma esplorare la possibilità di far nascere a Milano degli spazi che raccolgano materia prima seconda e la mettono a disposizione di processi di riuso di riciclo di rinvenzione tutte quelle cose che sono la base dell'economia circolare allora noi ci avviamo quasi alla conclusione quindi sicuramente il primo augurio è continuate questa ricerca continuate a studiare perché l'esigenza di cambiamento della città passa anche attraverso la creazione di nuovi modelli di produzione e questo è un messaggio sicuramente interessante che si lega oltre che al tema della sostenibilità si lega proprio a come possiamo immaginare un futuro diverso e nuovo anche per il nostro modo di abitare e di vivere perché produrre su scala perché non stiamo parlando di cose che devono arrivare a produrre risultati simbolici stiamo immaginando dei processi di produzione per alcuni settori che possano rappresentare un qualcosa allora questo significa anche lavoro significa anche la formazione che sta dietro alle professioni che si occupano a partire dal riciclo di queste nuove produzioni di questi nuovi lavori e quindi come dire è una pista di sviluppo notevolissima e ampia quindi posso farti tre esempi perché se no rischiamo di essere un po' astratti allora due cose che noi abbiamo sostenuto di cui abbiamo sostenuto la nascita qua a Milano negli scorsi mesi è invece un'esperienza incontrata la scorsa settimana primo luoghi deputati alla riparazione delle cose ok ne esiste uno molto interessante a Barona nato guarda un po' da una cooperativa sociale che mette insieme produzione di lavoro per i soggetti svantaggiati e saper fare manuale nel trasformare quello che sarebbe semplicemente un prodotto da avviare a discarica e invece riprendargli nuova vita combinando anche socializzazione perché se questo è associato alla vita di una comunità come un condominio questo diciamo mixa utilità sostenibilità ma anche inclusione sociale e diciamo maggiore coesione secondo un'esperienza che da Parigi è sbarcata a Milano perché due giovani donne ci hanno richiesto un contributo per riprodurre quello che il luogo dove loro a Parigi lavoravano sono due due ragazze che lavorano nel mondo della moda e hanno mutuato in uno spazio a Bovisa un centro di raccolta di tutti gli allestimenti delle sfilate di moda di Milano voi sapete che una sfilata può richiedere non so quanti mila metri di pelliccia fucsia e che viene inesorabilmente prodotta tinta prodotta commissionata prodotta tinta e non si sa bene diciamo auspicabilmente ben smaltita ma quanta dell'industria creativa e culturale milanese può riutilizzare diciamo innescando un ciclo economico elementare cioè chi la diciamo la prodotta ha interesse a regalarla ma invece chi la raccoglie può avere interesse a venderla si chiamano meta quindi il primo si chiama Barona Repair Café quindi vi invito anche a andarli a cercare e l'altro si chiama meta hanno un bellissimo spazio in Bovisa il terzo esempio invece guarda direttamente alla relazione con le medie e grandi imprese sapete che a Milano ovviamente ci sono gli headquarter dei principali player nel campo della moda del design è un'esperienza olandese che nasce in collaborazione con Patagonia e banalmente il principio è voi brand sostenibile sapete Patagonia è un brand di livello internazionale che ha molto puntato sui temi della sostenibilità vuol dire non portare gli acquirenti a disfarsi dei capi una volta che ci si è stufati o insomma si sono consumati quindi una diciamo relazione una partnership tra giovani creativi e smanettoni no makers variamente detti è una grande impresa per fare in modo che tutti i prodotti che ad Amsterdam vengono come dire diciamo rimessi in circolo possono essere reinventati con delle pratiche di upcycling e vengono danno lavoro a persone in condizioni di svantaggio e vengono rimessi sul mercato in una veste completamente nuova sono tre esempi molto semplici peraltro vogliono aprire a Milano sono tre esempi molto semplici di modelli di business che quindi consentono come dire la nascita di realtà che stanno in piedi da sole e che partecipano a questa realtà a questa sfida grazie molte per questi tre esempi abbiamo ancora un minuto quindi possiamo posso chiederti due cose che immagino che tutti si staranno chiedendo uno come fare a rimanere informati sul progetto su quali nuovi spazi quali nuove occasioni voi volete individuare è facile c'è un sito che si chiama Manifattura Milano manifattura.milano.it che è una come dire una piattaforma molto semplice che raccoglie e restituisce notizie ma che è anche un centro di contatto con una comunità ormai di oltre cento organizzazioni sia imprese sia realtà del privato sociale con cui siamo entrati in contatto nell'ultimo anno se volete tornare a aiutare Milano a tornare anche produttiva in senso manifatturiero pieno del termine potete seguire questo progetto e invece che cosa succederà il 10-11 febbraio? Il 10-11 febbraio è una data che abbiamo indicato come il momento di sintesi tra il percorso del progetto europeo di cui parlavamo e la vera e propria partenza del pianore a clima sarà un evento aperto che si svolgerà a base Milano lo diciamo in anteprima per cui non trovate informazioni informazioni ancora sui media perché adesso esco da questo incontro e vado in una riunione che discute di questo L'importante è che non cambiate la data auspicabilmente ma l'idea è di far partire il pianore a clima con una grande chiamata aperta cioè con un open call rivolta a organizzazioni che si occupano a vario titolo di produzione o in ogni modo di moda e design sostenibile metterle tutte insieme in un luogo piuttosto ampio e offrire la possibilità a tutti gli operatori che vogliono presentarsi e conoscersi di svolgere un'attività presentare la propria come dire la propria attività sociale o imprenditoriale e soprattutto cominciare a costruire un'alleanza per camminare insieme in questa direzione molto bene grazie ad Annibale e Delia che ci hai raccontato una città che vuole cambiare una città che non può cambiare da sola che ha bisogno di collaborare e quindi anche con questo auspicio ci ricolleghiamo alle connessioni sostenibili del salone e vi auguriamo buon proseguimento grazie grazie a tutti